Ciao a tutte pupette, allora per questo San Valentino 2015 io e il mio pupetto Rainbow Dash vi presentiamo una nail art molto molto dolce per le ragazze romanticone, sognatrici che amano per questa festività il rosa, il fucsia, il rosso, quindi colori classici, tradizione classica e quindi per voi mi sono ispirata ad un dolce e quale se non il cupcake che è uno dei dolci più conosciuti al mondo più dolci al mondo, più belli al mondo, più romantici al mondo e fantastici io amo i cupcake, amano la loro creatività, veramente se cercate su google cupcake ne escono di vari modi, forme, colori io amo i cupcake per cui mi sono ispirata esattamente a loro per questa giornata romanticona quindi di conseguenza spero che la nail art vi piaccia, ovviamente come sempre la potete realizzare come volete nel senso potete scegliere assolutamente tutti i colori che volete a me piaceva il fucsia e il rosa e quindi di conseguenza mi sono ispirata a questi di colori ma voi potete utilizzare qualsiasi tipo di colore purché comunque sia richiama sempre la giornata di San Valentino io spero che la nail art vi piaccia e noi ci vediamo dopo andiamo a fare un monocolore su tutta l'unghia di un rosa chiaro io in questo caso ho utilizzato il rosa dea di estrosa in un rosa più scuro vado a crearmi la base del mio cupcake e quindi mi vado a utilizzare tutto ciò che è la base e poi mi vado a fare le varie zig zag sempre quando sono soddisfatta al catalizzo con il marrone andiamo a fare la parte diciamo del pan di spagna bianco invece ed uno spot andiamo a realizzare la panna quindi preleviamo mi piace utilizzare lo spot proprio perché posso dare dei movimenti comunque circolari proprio a far vedere che la panna è tutta morbidosa con le onde andiamo a sigillare la nostra diciamo nail art perché dopo dobbiamo andare a utilizzare la micropittura quindi sigilliamo e poi di conseguenza bafferizziamo e facciamo la micropittura io ho bafferizzato la mia superficie prendo della pitturina nera acrilica e ovviamente sempre la mia penna stilografica che amo e mi ci trovo benissimo e vado praticamente a ripassare tutti i contorni quindi vado a ripassare tutti i contorni della mia nail art e ora facciamo la mia nail art poi se vogliamo gli possiamo scrivere Mettiamo vicine le dita e tracciamo l'altra linea o comunque orientativamente ci andiamo a indicare dove dovrà continuare l'altra nostra linea appunto la freccia ok adesso possiamo sigillare tranquillamente dopodiché mettiamo le nail art vicino più che altro per capire a che altezza dobbiamo inserire la nostra freccia nel cupcake quindi più o meno a questa altezza noi sappiamo che dobbiamo fare una bacchettina dopo che abbiamo fatto le bacchettine e abbiamo completato i nostri bordini possiamo sigillare per dare l'effetto appunto dei zuccherini sopra la nostra panna prendiamo un fucsia e un rosso e andiamo appunto a realizzare con la punta più piccola dello spot cuoricini piccoli piccoli proprio per appunto simulare questi zuccherini a forma di cuore proprio per San Valentino il vostro disegno si rovini prendiamo la polvere acrilica e andiamo a versare la polvere acrilica sopra i cuoricini io in questo caso utilizzo la polvere acrilica trasparente versiamo l'eccesso e andiamo in lampada facciamo la stessa cosa con la scritta e andiamo in lampada eliminiamo l'eccesso e niente pupette questa quindi è la nail art per questa mia prima nail art per questo San Valentino 2015 fatemi sapere che ne pensate fatemi sapere se vi è piaciuta l'idea e soprattutto se magari la riproducete ovviamente io vi lascio giù nell'info box il link per quanto riguarda la penna stilografica quindi l'utilizzo della penna stilografica e ovviamente i miei contatti in modo che se la riproducete mandatemi una foto su facebook quindi su The Diary of Alessia e niente pupette io e Rainbow Dash vi mandiamo un grandissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima nail art ciao 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 ciao